La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'ambiente Mario Mazzocca, ha approvato la delibera relativa all'accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione bonifica delle aree comprese nel serio di interesse nazionale di bussi sul Tirino. La definizione del provvedimento che permette di investire 3,1 milioni di euro è stata resa possibile anche grazie al capillare lavoro di analisi del litere procedimentale compiuto dal segretario particolare della Presidenza, Claudio Ruffini, che in questi mesi ha provveduto a seguire diversi passaggi per il recupero delle risorse disponibili. L'accordo che vede la partecipazione del Ministero dell'Ambiente, della Regione Abruzzo, delle province di Pescara e Chieti, dei comuni di Alanno, Bolognano, Busi sul Tirino, Castiglione a Casauri, a Chieti, Manopello, Popoli, Rosciano, Scafa, Tocco da Casauri e Torre dei Passeri, costituisce un impegno tra le parti per attivare ogni misura necessaria all'attuazione degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione bonifica del SIN di Busi, secondo programmi già definiti. L'investimento previsto è pari a 3,1 milioni di euro. Gli interventi di messa in sicurezza, secondo quanto previsto nel documento, mirano a definire un piano di prevenzione dell'emergenza anche all'esterno dell'area, a fine di ridurre i possibili rischi sanitari. Si tratta, ha spiegato l'assessore Mazzocca, di un provvedimento importante, non solo dal punto di vista economico, ma anche per le conseguenze adesso collegate, con i quali intendiamo mettere a regime l'elaborazione di uno studio epidemiologico in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. Un tassello questo necessario nel più ampio piano di interventi che stiamo predisponendo per bonificare questa parte di territorio e tutelarla dopo anni di dissesti ambientali.